Coach Valerio Baldovin, purtroppo non è arrivato quel tie-break che fino all'ultimo si è sperato. Purtroppo è così, peccato, abbiamo avuto l'occasione nel quarto set, eravamo avanti, noi siamo stati bravi a continuare a essere fluidi su cambio palla e loro hanno molta pressione al servizio perché battono bene, sbagliando anche molto poco e abbiamo fatto fatica a fare il cambio palla. Il quarto set in generale è una partita che abbiamo giocato anche bene, solo che troppo a strappi per riuscire a competere con una squadra di questa carattura. Un 3-1 comunque è differente rispetto a quello di Trento, a livello di interpretazione, nel senso che qui si notava che il tie-break era veramente ancora più alla portata. Sì, sì, in questo momento c'è rammarico perché l'occasione, come hai detto tu, c'era. Sì, rispetto a Trento forse ci siamo arrivati un po' più vicini, peccato, però dobbiamo imparare a saperle cogliere queste occasioni. Ricetta adesso da dover dire ai ragazzi per… non c'è nessuna ricetta particolare, lavorare tanto, essendo consapevoli dei nostri limiti, dobbiamo essere un po' più accurati in certe situazioni di gioco dove non lo siamo stati, che sono quelle due o tre palle che poi alla fine faranno la differenza. Grazie, in bocca al lupo.